La vittoria del campionato è andata al Cagliari, ma è bastato guardare la sfida contro Lentella per capire, qualora ce ne fosse bisogno, la forza del Crotone targato 2015-2016. Un'annata storica che riporta la Calabria in Serie A a tinte rosso-blu. L'uscida indossa il vestito buono, quella della grande festa. Con la promozione in tasca i pitagori cercavano solo la ciliegina sulla torta, gustata per oltre 80 minuti, poi il 2-1 De Sardi sul campo del Vercelli la toglie dalla bocca che resta comunque dolcissima, Amara invece quella dell'Entella rimasta bocca asciutta in Calabria in classifica. Ai play-off ci vanno Novara e Spezia, fuori i Liguri di Aglietti. Il gol partita è la sintesi dell'annata, ripartenza fulminea, grande giocata di Palladino e rete di Torromino a conferma di quanto sia stato importante anche l'apporto delle seconde linee. Al tripece fischio e festa grande all'uscida e rosso-blu alzano al cielo il premio promozione consegnato dal presidente di Lega, Bodi. Per una notte non si pensa al futuro, quel futuro che oggi vede Juric già lontano dalla Calabria. Alessio Bonpasso per la CNews 24.